della serie non ci facciamo mancare niente c'è grillo ragazzi arrendetevi a chi siete circondati ma da chi non c'è nessuno ma me l'ha detto casaleggio di così che così che crei il clima di terrore vabbè terrorizziamoci siete dei pazzi ma voi lo sapete no lo sapete ma cosa ma se non me lo fa dire come lo dica sapete chi c'è dietro la simmental non chi c'è non posso dire lei la mangia la cinta ma c'è un pazzo ma lo sa cosa c'è dietro la cinta ma mi piace sai cosa c'è no la setta della buca pazza casaleggio lo detto che è spunto eh sì perché lo sa cosa quella è una cosa incredibile la mucca che l'erba non ce la mangia la fuma e lei ce la mangia è certo che la mangia è un pazzo da pazza dietro per dietro c'è tutto dietro dietro ci abbiamo delle cose pazzesche dietro brunetta dietro brunetta non c'è nessuno perché tanto lo vedresti e questa è una cosa pazzesche e dietro berlusconi dietro berlusconi nessuno perché è berlusconi che sta dietro agli altri ragazzi sta sempre dietro è una cosa da pace ragazzi ma chi gliele dice che arrende casaleggio casaleggio sempre arrende sempre casaleggio arrendetemi ma siete circondati ma da chi da nessuno però lo devo dire per allarmare ma c'è qualcosa che dietro non c'è niente è l'elezione del papa dietro il papa ma anche dietro le lezioni di sua santità non me lo tocchi no lo posso dire lo dica c'è qualcuno e chi è un grande vecchio un grande vecchio di dal papa ma che sciocchezza è sicuro l'ho scoperto io e chi è è dio ma su lui non posso dire niente per capire vabbè a villo villo da pace ma lei faceva il comico e la faccia e continua ok arrendetemi ci siamo a questi siete circondati ok ce ne andiamo casaleggio che mica mi fai dire